ma che cosa che figata che figata e ti chiedo come stai, come stai, come stai e come vuoi che stia mi hai fatto esplodere un caper davanti alla faccia porca di quella ciao 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 a tutti come state io sono il vostro solare di sanni e oggi siamo in un nuovo video in questa animazione tizio a grande rischiesa ha fatto un brutto incontro ha fatto un incontro con un creeper aia e come avete visto si è anche arrabbiato e anche molto si adesso sto andando zitto ok e adesso com'è che possiamo rimediare non so provo a fare un sondaggio nei commenti bell'idea tizio bell'idea questa è stata una bellissima idea fare un sondaggio nei commenti decidete cosa qual è il rimedio per farmi perdonare da tizio o a fare e proseguire con le sue avventure vabbè spero che questo video vi sia piaciuto come al solito lasciate un bellissimo pollicione solare in su se non l'avete fatto iscrivetevi al canale attivate la campanellina condividete questo video lasciate commenti con idee consigli eccetera eccetera e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao ragazzi